Le società arcaiche e la sofferenza. Come abbiamo visto, l'uomo arcaico tenta di opporsi con tutti i mezzi in suo potere alla storia considerata come una sequela di avvenimenti irrevocabili, imprevedibili e di valore autonomo. L'uomo rifiuta di accettarla e di valorizzarla, anche se in molti casi non può scongiurarla. Per esempio, non può nulla contro le catastrofi cosmiche, i disastri militari, oppure contro le sventure. E' interessante sapere come egli sopportava le calamità, la malasorte, le sofferenze che entravano nel retaggio di ciascun individuo e di ogni collettività. Che cosa significa vivere per un uomo appartenente alle culture tradizionali? E questo è molto interessante perché a seconda dei periodi storici, a seconda anche delle diverse culture distribuite per il mondo, si è sempre avuto un rapporto diverso con la sofferenza. Vedremo che ci sono però un po' delle analogie in tutto il mondo, per quanto riguarda soprattutto le culture arcaiche tradizionali. Che cosa significa vivere per un uomo appartenente alle culture tradizionali? Come abbiamo visto, prima di tutto, vivere secondo modelli extraumani, in conformità agli archetipi, perché questi venivano percepiti come reali, e attraverso essi riusciva, come abbiamo visto, ad annullare il tempo, pur in concordanza con i ritmi cosmici e armonizzandosi con essi. Il giorno, la notte, le stagioni, i cicli lunari, i solstizi e così via. Nel quadro di una tale esistenza, che cosa potevano significare la sofferenza e il dolore? Perché paradossalmente poi queste culture avevano una conoscenza dei ritmi cosmici e dei ritmi della natura molto superiore a quella nostra. Chiunque viva in città oggi sa che la luminosità della città, le luci della città, sono un vero e proprio inquinamento dal punto di vista dell'osservazione del cielo. Perché non si riescono neanche più a vedere le stelle, la luna. Invece nelle società arcaiche si viveva a contatto continuo. E poi ricordiamoci che la luce elettrica è scoperta recente. Fino a poco più di un secolo fa, quando il sole tramontava, tramontava. E tutti percepivano questi ritmi e vivevano secondo questi ritmi. E sicuramente anche lo squilibrio nostro legato all'ipervalutazione della tecnica è stato determinato anche dalla perdita di questa relazione immediata con la natura. Pensiamo a quanti danni ha fatto la tecnica tanto sannata in questi ultimi cento anni. In nessun caso un'esperienza priva di senso che l'uomo deve soltanto sopportare nella misura in cui è inevitabile, come sopporta per esempio i ricordi del clima. Di qualsiasi natura fosse e qualunque ne fosse la causa apparente, la sua sofferenza aveva un senso. E questa vedremo che è l'analogia poi con tante altre culture. Dare senso alla sofferenza. Perché poi la vera angoscia è quando si soffre e non si sa neanche la causa della sofferenza. Tant'è vero che la caratteristica dell'angoscia è proprio questa. Quello che distingue l'angoscia dalla sofferenza. Che la sofferenza è una causa. Per cui anche un tipo di sofferenza materiale. Si calpesta involontariamente un chiodo ed entra nella scarpa e si conficca nel piede. E si sa la causa di quel dolore, qual è di quella sofferenza. L'angoscia invece è semplicemente questo malessere, privo di causa. Allora, di qualsiasi natura fosse, e qualunque ne fosse la causa apparente, la sua sofferenza aveva un senso. Essa rispondeva, se non sempre, a un prototipo, almeno a un ordine il cui valore non era contestato. Si è detto che il grande merito del cristianesimo nei confronti dell'antica morale mediterranea è stato quello di valorizzare la sofferenza, di trasformare il dolore da stato negativo in esperienza dal contenuto spirituale positivo. Poi magari c'è stato anche un eccesso di questa valorizzazione della sofferenza nel cristianesimo. perché poi la valorizzazione della sofferenza è sfociata anche in, per esempio, in forme di misticismo estremo, dove le persone si facevano murare, i famosi gli stiliti che vivevano sulle colonne e non scendevano mai dalle colonne, tutte queste esasperazioni di forme di sofferenza. L'asserzione vale nella misura in cui si tratta di una valorizzazione della sofferenza e anche di una ricerca del dolore per le sue qualità salvifiche. Ma se l'umanità pre-cristiana non ha ricercato la sofferenza e non l'ha valorizzata all'infuori di rare eccezioni, come uno strumento di purificazione e di ascesa spirituale, perché la sofferenza dall'inizio è stata vista come strumento di purificazione e ascesa. Non peraltro poi il simbolo del cristianesimo è un uomo su una croce che ha dei chiodi conficcati nelle mani e nei piedi. Allora, rileggo. Se l'umanità pre-cristiana non ha ricercato la sofferenza e non l'ha valorizzata all'infuori di rare eccezioni, come uno strumento di purificazione e di ascesa spirituale, non l'ha mai considerata come sprovvista di significato. Tali sofferenze hanno potuto essere sopportate proprio perché non sembravano né gratuite né arbitrarie. E questo un po' si ricollega a quello che vi stavo dicendo relativamente alla sofferenza e all'angoscia, no? L'angoscia, quando ad esempio chi ha avuto un attacco di panico lo sa benissimo, viene preso dall'angoscia. L'angoscia aumenta, aumenta, aumenta e alla fine si scatena l'attacco di panico. Se si chiede a chi ha l'attacco di panico il motivo, perché hai paura? Non lo sa dire. Perché sta vivendo un momento angosciante, anzi spesso chi ha attacchi di panico ha paura di arrivare a morire, perché poi ci sono delle conseguenze somatiche, delle conseguenze sul fisico-fisiologiche, c'è la tachicardia, c'è il sudore. Poi varia questo anche dalla durata dell'attacco di panico. Ma quel che voglio dire, l'esperienza è terribile perché si prova l'angoscia e quindi non c'è una causa precisa, c'è questo improvviso malessere psichico che coinvolge anche il corpo e non si sa bene perché. Quindi la necessità degli esseri umani di dare un senso alla sofferenza c'è sempre stata. E quindi Mircea Eliade ci dice, sì, nelle culture pericristiane non c'era la valorizzazione che poi si è data alla sofferenza nel cristianismo. Però queste sofferenze venivano sopportate proprio perché non sembravano né gratuite né arbitrarie. Il primitivo che vede il suo campo divorato dalla siccità, il suo bestiame decimato dalla malattia, il suo bimbo sofferente, lui stesso febbricitante o cacciatore troppo spesso sfortunato, sa che tutte queste congiunture non dipendono dal caso, ma da certe influenze magiche o demoniache contro le quali lo stregone o il sacerdote dispongono di armi. Così, proprio come la comunità, quando si tratta di una catastrofe cosmica, anche egli si rivolge allo stregone per eliminare l'azione magica o al sacerdote per propiziarsi gli dei. Questo qui è proprio una caratteristica. Noi vediamo nelle diverse parti del mondo, a partire dai navitivi americani, i cosiddetti indiani d'America, alle tribù africane, in tutto il mondo ritroviamo la figura dello stregone, dello sciamano, chiamato in vari posti, in vari modi diversi, a seconda delle lingue, dei contesti, no? E in un certo senso anche io ho conosciuto per esempio nei vari paesi della nostra Italia tanti anni fa varie fattucchiere. Oggi hanno preso questa forma a Lavana Marchi, fanno un sacco di soldi, ma un tempo nei paesi c'erano questi personaggi, spesso erano donne, quasi sempre erano donne, che erano l'equivalente un po' degli stregoni arcaici e svolgevano, mi ricordo che ho visto, che ad esempio ho visto leggere le macchie d'olio in un piattino d'acqua, oppure fare tutta una serie di altri rituali, no? Legati a queste forme di magia popolare. Se loro interventano da alcun risultato, si riferisce a quello degli stregoni e così via, gli interessati si ricordano dell'esistenza dell'essere supremo, pressoché dimenticato per il resto del tempo, e lo pregano per mezzo di offerte e di sacrifici. Nel tempo, cari amici e cari amici, si facevano anche sacrifici cruenti, ricordiamo che alcuni popoli facevano perfino sacrifici umani, no? Ma anche il sacrificio di Gesù Cristo che si ripete nella Messa è un sacrificio umano che continua a ripetersi nel tempo in modo meno cruento, quantomeno da vedere, no? E quindi ecco, se la preghiera, cioè, se l'andare da uno sciamano, da uno stregone e i rituali non avevano efficacia, in ogni caso si ricercava la causa della sofferenza, proprio per non sprofondare nell'angoscia, come vi dicevo. E quindi ecco che Elia decidice ci si ricordava dell'esistenza dell'essere supremo che era stato dimenticato nel resto del tempo. Continuo, tuttavia ogni momento del trattamento magico-religioso della sofferenza illustra con chiarezza che il senso di quest'ultima proviene dall'azione magica di un nemico, da un'infrazione a un tabù, dal passaggio in una zona nefasta, dalla collera di un dio, oppure quando tutte le altre ipotesi si sono rivelate caduche, dalla volontà o dalla rabbia dell'essere supremo. e quindi questo è sempre nel tentativo di dare un senso alla sofferenza, amici, di cercare dunque la causa di una sofferenza. E ancora oggi nella società occidentale dove Dio è morto ormai scristianizzata, però restano queste tendenze sia in campo materiale sia ancora nel cristianesimo, quando ci sono eventi dei cataclismi cosmici, lo tsunami, un terremoto lo distrugge un paese, si chiede al prete ma come fa Dio a permettere questo? Il prete che cosa risponde? È la volontà di Dio, non possiamo sapere, per noi fa parte di un piano del Signore che è per noi. Però vedete, anche in queste risposte, forse anche un po' infantili, o semplicemente consolatorie, si ricerca sempre una causa, sia nell'interrogante perché padre è successa questa cosa e Dio ha permesso questo, sia nella risposta del sacerdote. Per noi uomini non possiamo sapere tutti i piani del Signore. Il primitivo non può concepire una sofferenza non provocata da una colpa personale o dalla malvagità del vicino nel caso in cui lo stregone scopre che si tratta di un'azione magica. Ma esiste sempre alla base una colpa o perlomeno una causa identificata nella volontà del Dio supremo dimenticato al quale l'uomo è costretto alla fine a rivolgersi. Se un po' ripete quello che aveva detto prima. Così la sofferenza diventa comprensibile e di conseguenze sopportabili. Questo è importante. Quello che vi dicevo, perché l'attacco di panico spesso chi ha l'attacco di panico ha paura di morire. Perché l'angoscia è insopportabile proprio perché è senza causa. Invece la sofferenza proprio perché si ricercano possono essere anche cause immaginarie cause inventate perché un ateo potrebbe dire a un cristiano che dice sì soffro perché Dio mi sta mettendo alla prova che è una sua costruzione mentale ma per quel cristiano quella fantasia o in ogni caso quella convinzione o se vogliamo quell'atto di fede funzionerà proprio perché dà un senso alla sofferenza dà un senso alla sofferenza. Contro questa sofferenza il primitivo lotta con tutti i mezzi magico-religiosi alla sua portata e alla fine riesce a sopportarla moralmente perché le ha dato un senso e non è assurda. Ecco, questo è l'elemento chiave. Il momento critico della sofferenza è costituito dalla sua comparsa. La sofferenza convolgente solamente nella misura in cui la sua causa resta ancora sconosciuta. È sconvolgente. Qua manca c'è qualcosa che non va. La sofferenza è sconvolgente solamente nella misura in cui la sua causa resta ancora sconosciuta. Precisiamo ancora una volta che dal punto di vista dei popoli delle classi anistoriche cioè di questi popoli senza storie che non credevano nella storia non costruivano un loro passato storico. Ecco, allora per questi popoli la sofferenza equivale alla storia. Questo è molto interessante perché gli archetipi li portavano in una dimensione come abbiamo visto atemporale in illo tempore quindi una situazione del c'era una volta una situazione indefinita dal punto di vista temporale e la sofferenza invece rimette in contatto con il divenire quindi con la storia per questo la sofferenza equivale alla storia guardate è interessantissimo questo ed è un grandissimo Mircea Liade che rimase fascista fino all'ultimo grato ma questa è una piccola curiosità questa equivalenza in alcuni casi arriva fin quasi alle nostre regioni nelle civiltà contadine europee in tutti quei casi dove la fattucchiera o il sacerdote scopre la causa per cui i fanciulli o le bestie muoiono la sicilità si prolunga le piogge abbondano la selvaggina sparisce allora la sofferenza comincia a diventare sopportabile perché ha un senso e ha una causa e di conseguenza la si può integrare in un sistema e spiegarla ecco prima per l'associazione diere mi era venuta in mente la fattucchiere ve ne ho parlato anche il sacerdote adesso padre Amort il poverino è morto pure però proponeva veramente una spiritualità medievale nel senso deleterio della parola perché io vedo il Medioevo come uno dei periodi migliori di tutta la storia e di grande luminosità contrariamente a quello che ci raccontano gli storici materialisti però padre Amort ha questa spiritualità veramente medievale nel senso deleterio della parola e popolare nel senso più deleterio della parola per cui faceva questi esorcismi però anche lì dava alleviava le sofferenze perché anche lì si ritrova la causa che è il diavolo e poi c'è la parola non cambia il rituale da quello di uno stregone quello di padre Amort è identico a quello di uno stregone cambia la lingua cambia la divinità a cui ci si rivolge ma è identico dal punto di vista anteropologico ovviamente un cristiano che ha fede che crede nel diavolo dirà no Marco Cosmo il povero cristiano è tutta un'altra cosa mentre quelli sono rituali pagani ma io non voglio entrare in questo tipo di logica che veramente sento lontano ciò che abbiamo detto sopra del primitivo si applica anche per buona parte l'uomo delle culture arcaiche ovviamente i motivi che valgono come giustificazione della sofferenza e del dolore variano a seconda dei popoli ma la giustificazione si ritrova ovunque questo è importantissimo nonostante cambiano i popoli possono cambiare le lingue il clima le razze quello che vi pare ma la giustificazione alla sofferenza la troviamo ovunque quindi è un fattore dal punto di vista ecco parlavo di fattori antropologici profondissimo in generale si può dire che la sofferenza è considerata come la conseguenza di un'eccezione in rapporto alla norma cioè la norma è l'ordine è il cosmos è il dharma e la sofferenza è l'elemento di disturbo rispetto però a una norma va da sé che questa norma differisce da un popolo a un altro da una civiltà a un altro e questo è ovvio ma per noi l'importante è che la sofferenza e il dolore non sono affatto considerati nel quadro delle civiltà arcaichi come ciechi la sofferenza cieca e sprovvista di senso no assolutamente no come abbiamo visto in questo modo gli hindù hanno elaborato abbastanza presto una concezione della causalità universale e il karma che giustifica gli avvenimenti e le sofferenze attuali dell'individuo e spiega contemporaneamente la necessità delle trasmigrazioni eh la famosa reincarnazione no Buddha ricordo che non ha mai parlato di reincarnazione quello di cui parlano tibetani è il buddismo mischiato a riti sciamanici precedente al buddismo tant'è vero nel buddismo zen che è un buddismo legato molto al buddismo delle origini al buddismo guerriero non si parla mai di reincarnazione ma questo è un piccolo inciso alla luce della legge karmica non soltanto le sofferenze acquistano un senso ma acquistano anche un valore positivo ed è chiaro la legge del karma Dante la chiama la legge del contrapasso spiega perfettamente causa e effetto e quindi è un antidote enorme contro l'angoscia e la sofferenza le sofferenze dell'esistenza attuale sono meritate pochi infatti sono l'effetto dei delitti e delle colpe commesse nel corso delle esistenze precedenti ma queste sofferenze sono anche benvenute poiché solamente in questo modo è possibile riassorbire una parte del debito karmico che pesa sull'individuo e decide del ciclo e delle sue esistenze future quindi spiegazione alla sofferenza per le vite precedenti per le azioni fatte che si ripercuotono sulla vita e quando per chi crede nella reincarnazione benedetta la sofferenza di questa vita perché mi darà possibilità di reincarnarmi nella prossima vita in una condizione migliore o di vincere del tutto il ciclo delle morte e delle rinascite a seconda delle dottrine chi non è totalmente sprovvisto di intelligenza può sopportare con serenità le sofferenze i dolori i colpi che riceve le ingiustizie di cui è oggetto eccetera perché ognuno di essi risolve un'equazione karmica rimasta senza soluzione durante un'esistenza precedente quello che vi dicevo prima qualsiasi cosa succede dalla morte di un genitore di un figlio una tragedia e così c'è la spiegazione del karma che attutisce questa sofferenza evidentemente la speculazione in due ha cercato e scoperto ben presto mezzi con i quali l'uomo può liberarsi da questa catena senza fine causa-effetto causa-effetto e così via all'infinito che non è altro che la legge karmica ma tali soluzioni non indeboliscono affatto il senso delle sofferenze anzi al contrario esse lo rafforzano non è che rafforzano la sofferenza rafforzano il senso che si dà alla sofferenza quindi attenuano la sofferenza proprio come lo yoga il buddismo parte dal principio che tutta l'esistenza è dolore offre la possibilità di superare in un modo concreto e definitivo questa serie ininterrotta di sofferenze a cui si riduce in ultima analisi ogni esistenza umana ma il buddismo come lo yoga e come d'altronde qualsiasi altro metodo hindu di conquista della libertà non mette in dubbio per un solo istante la normalità del dolore Buddha poi parte proprio da lì dalla condizione che la vita è sofferenza e propone una via d'uscita poi della sofferenza quanto al Vedanta per esso la sofferenza è illusoria soltanto nella misura in cui lo è l'intero universo nell'esperienza umana del dolore nell'universo sono in realtà nel senso ontologico del termine e questo è il grande gioco di vino è lì il grande gioco di maya la grande illusione al di fuori dell'eccezione costituita dalle storie materialistiche che rompono i balli in tutto il mondo lokayata e charvaka secondo le quali non esiste né anima né dio e che considerano la fuga dal dolore e la ricerca del piacere come l'unico fine sensato che possa proporsi l'uomo tutta l'india attribuita alle sofferenze di qualunque natura e se siano cosmiche psicologiche o storiche un senso e una funzione ben determinati il karma garantisce che tutto quello che si produce nel mondo avviene in conformità con la legge immutabile della causa e dell'effetto se non ritroviamo in nessun luogo nel mondo arcaico una forma così esplicita come quella del karma per spiegare la normalità tra virgolette delle sofferenze troviamo tuttavia ovunque un uguale tendenza ad accordare al dolore e agli avvenimenti storici un significato normale non commento perché ho già commentato prima non è qui il caso di rilevare tutte le espressioni di questa tendenza ritroviamo un po' ovunque la concezione arcaica che domina presso i primitivi secondo cui la sofferenza è imputabile alla volontà divina o che sia intervenuta direttamente per produrla o che abbia permesso ad altre forze demoniache o divine di provocarla la distruzione di un raccolto la siccità il saccheggio di una città da parte del nemico la perdita della libertà o della vita una qualsiasi calamità epidemia terremoto e così via non vi è nulla che non trovi in un modo o in un altro la sua spiegazione e la sua giustificazione nel trascendente nell'economia divina bene amici per il momento è tutto un caro abbraccio Marco Cosmo